Si è aperto con un momento di raccoglimento il ricordo del consigliere provinciale della SVP Sip Lamprecht, la 64esima assemblea provinciale organizzata dall'Unione Agricoltori, Bauerbund dell'Alto Adige, associazione nella quale aveva trascorso gran parte della sua carriera. Nella gremita sala del Hausdair Kultur di Bolzano l'incontro si è incentrato sul ruolo che potrebbe svolgere l'innovazione nel settore agricolo, ma anche in che modo gli agricoltori e le agricoltrici potrebbero trarne profitto. A tal proposito abbiamo sentito Siegfried Riener, direttore del Bauerbund. L'agricoltura in Alto Adige è per sé già innovativa, vediamo ogni giorno che i nostri contadini sono pieni di idee nuove e noi il nostro compito dell'associazione è adesso raggruppare, trovare queste nuove idee e farle entrare sul mercato in forma di nuovi prodotti e di nuovi servizi. Puntiamo sull'innovazione però non dimenticando la tradizione, perché dalla tradizione prendiamo la nostra forza anche per innovare. Come sottolineato dal Presidente dell'Unione, agricoltori Leo Tiefenthaler resistono molte forme di innovazione, come ad esempio nuovi metodi di coltivazione, di stoccaggio, di lavorazione, capaci di ridurre i costi o di migliorare la qualità dei prodotti, ma anche nuove forme di organizzazione e sistemi di gestione, ma anche nuove vie di comunicazione e marketing. Tutto ciò, ha concluso Tiefenthaler, può rivelarsi interessante per le nostre piccole aziende e cooperative altoatesine. Ospite dell'Assemblea, Martin Darbo, direttore generale della Adolf Darbo. Secondo il referente di Spicco, per avere successo è necessario conoscere in ogni momento le esigenze dei propri clienti per poter fornire sempre le soluzioni più adeguate. Secondo il Bauer Bund, nei prossimi anni l'innovazione rivestirà un ruolo chiave sul mercato e la capacità di sfruttarla contribuirà in maniera decisiva al successo di un'azienda. È per questo che sarà necessario ampliare le reti di collaborazione con istituti come l'Eurach, il TIS, il Centro di Leinburg e la LUB, guardando con positività al nuovo parco tecnologico. A breve, l'Unione istituirà uno sportello dedicato all'innovazione, che fungerà da punto d'appoggio per tutti coloro che hanno un'idea e necessitano di aiuto per svilupparla e realizzarla.